Siamo veramente molto felici e soddisfatti di far parte per il secondo anno consecutivo del progetto Terre degli Uffizi promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Galleria degli Uffizi. Lo scorso anno con una mostra dedicata a Masaccio e Beato Angelo che ha riscorso un importante successo di pubbliche visitatori e quest'anno di nuovo incentrata sul nostro concittadino doc Giovanni Mannozzi, detto Giovanni da San Giovanni. Un pittore del 600, un pittore legato particolarmente alla committenza medicea per il quale appunto sono esposti una serie di fondi che sono il centro e il fulcro di tutta l'esposizione. Io ringrazio nuovamente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Galleria degli Uffizi per l'opportunità che continua a dare per il secondo anno consecutivo alla nostra città.